Secondo appuntamento per la 57esima edizione della festa del Castagno. Come si svolgerà la giornata e quando è l'appuntamento? Diciamo che domenica prossima, 27 ottobre, è il secondo evento della festa. La festa del Castagno si svolge alla metà di ottobre, nella seconda e nella terza domenica. Purtroppo domenica scorsa, per questioni di maltempo, allerta arancione, abbiamo dovuto rinviare domenica prossima questo evento. È un evento importante che si configura un pochino come una festa molto frequentata, molto apprezzata. Ci sono naturalmente i soliti banchi gastronomici a base di farina di castagne, castagne che è un po' la regina dell'autunno. E' possibile mangiare al coperto in una struttura molto ospitale, nel senso che ci sono tutte le garanzie di protezione, anche in caso di maltempo. E' possibile quindi pranzare e ci sono circa 150 posti a sedere. Al pomeriggio è possibile visitare tutti gli spazi espositivi del Castello Doria Manaspina, spazi espositivi importanti perché abbiamo la Pinacoteca David Beguet, il Museo della Resistenza, il Museo di Scienze Naturali e ovviamente tutti gli spazi a disposizione, molto suggestivi, molto belli. In più avremo anche uno spettacolo in piazza, in piazza del Leone, nel pomeriggio con dei giocoglieri equilibristi. Ecco, com'è andata la raccolta del Re Castagno quest'anno? Beh, quest'anno direi meglio dell'anno scorso e degli anni passati. Probabilmente il parassita, che si chiama cinnipide, il parassita del Castagno, quest'anno è stato diciamo in gran parte debellato attraverso tutta una campagna di disinfestazione con insetti antagonisti e quindi insomma la produzione quest'anno è stata quantitativamente e qualitativamente migliore rispetto al passato. Quindi questo ci fa sperare anche nelle prossime edizioni future di questa festa ormai arrivata alla 57esima edizione. Ecco, ricordiamo di preciso dove vi troveranno. Beh, ci troviamo a Calice al Cornoviglio, in Val di Vara, frazione Castello di Calice.